signori buongiorno ragazzi buongiorno abbiamo bisogno di voi bulgaria online tv ha bisogno di voi per far conoscere al meglio la bulgaria e quindi mi rivolgo a voi blogger a voi youtuber a ogni persona bulgara o italiana che vive qui o all'estero che voglia far conoscere questo meraviglioso paese e mandateci un'idea di collaborazione vogliamo vedere quello che fate ragazzi mandateci il vostro materiale video audio qualsiasi sia lo vogliamo vedere e vi daremo la possibilità di entrare anche voi sulla nostra piattaforma e insieme a noi far conoscere questo paese meraviglioso condividete al massimo i nostri video se avete interesse nel far crescere la bulgaria e cerchiamo di comunicare a tutti la bellezza di questo posto ciao a tutti buona giornata